Non si spengono le polemiche dopo la pubblicazione delle vignette con le quali Charlie Hebdo ha deriso le vittime del terremoto avvenuto nel centro Italia. La solidarietà successiva agli attentati che colpirono il giornale satirico nel gennaio del 2015 ha lasciato il posto ad una sostanzialmente dilagante indignazione e non sono mancate neppure vignette irriverenti in risposta a quelle transalpine. E' un'offesa soprattutto a tutti quelli italiani che avevano scritto Gesù. La satira deve suscitare un sentimento, però fare la satira su una tragedia che è di un'intera nazione e anche di tutto il mondo io penso che sia stata una cosa brutta. Intanto, mentre si susseguono le scosse di assestamento, vigili del fuoco e volontari ricevono ancora segnalazioni attraverso le quali si spera di recuperare i corpi dei pochi dispersi.